protesi femororotulea che cos'è questa diavoleria quando serve per chi è indicata e perché nella mia pratica quotidiana è un intervento che eseguo esclusivamente sotto guida robotica questo è l'argomento del video di oggi sapete se seguite questo canale che sono molto affezionato alla tecnica chirurgica assistita con la robotica Mako e oggi parliamo di questo intervento perché credo che per una nicchia di pazienti ben definita questa sia la soluzione per il dolore al ginocchio ma prima di iniziare per chi non mi conosce mi presento sono dottor Lorenzo Castellani sono un chirurgo ortopedico lavoro sulle grandi articolazioni spalla anche ginocchio e oggi per l'appunto parliamo del ginocchio del ginocchio doloroso del ginocchio con un'artrosi femororotulea e vi prego se vi piacerà questo contenuto di iscrivervi al canale di mettere mi piace e di aiutare così questo canale a crescere perché ci siano sempre sempre più contenuti nuovi su questo canale ma torniamo a noi torniamo al fatto che oggi dobbiamo parlare di questa benedetta protesi femororotulea che cosa significa significa che oggi di fronte a un problema in un'articolazione come quella del ginocchio esistono più soluzioni per risolvere un dolore legato a un'artrosi che noi definiamo di quarto grado il quarto grado è quando completamente manca la cartilagine e un osso tocca sull'altro osso ebbene il ginocchio però è fatto di tre camere diverse una camera mediale che è quella che guarda l'altro ginocchio una camera laterale che quella esterna e una camera anteriore che quella della rotula che scorre sul femore queste tre camere si possono ammalare tutte e tre e allora l'indicazione è quella un intervento di protesi totale di ginocchio oppure si può ammalare un comparto o interno o esterno e allora si parla di protesi monocompartimentale di ginocchio a volte si può ammalare solo la parte anteriore che la parte femor rotulea questa è una condizione un po più rara avere una forma di usura femor rotulea isolata però presente come si riconosce se si soffre di un'artrosi femor rotulea l'artrosi femor rotulea si sente soprattutto se il ginocchio fa dolore a scendere una discesa a scendere le scale queste sono le due cose in cui l'articolazione femor rotulea è più coinvolta quindi in queste circostanze probabilmente c'è un consumo a livello di queste cartilagini spesso questo dolore davanti al ginocchio quando si scendono a discesa scendono le scale può accompagnarsi ad altri dolori o interni o esterni del ginocchio in questi casi o si esegue una protesi completa del ginocchio totale oppure la combinazione di due protesi piccole la monocompartimentale o la femor rotulea ma oggi parliamo di quelle volte in cui non c'è proprio nessun dolore né dentro né fuori al ginocchio ma soltanto davanti in questo caso l'artrosi riguarda solo questa articolazione femor rotulea che può essere sostituita in maniera isolata cioè ricoprendo solo la parte del ginocchio che fa male che poi è un po il trucco di tutte le protesi non complete del ginocchio è il trucco perché lasciando la parte sana ancora del ginocchio nostra si farà in modo che il ginocchio venga percepito come molto più naturale dal nostro cervello perché la nostra mente ha da parte delle articolazioni una serie di informazioni legate alla tensione dei legamenti al contatto e alla pressione sulle cartilagini al grado di movimento se piegato o esteso se tutti noi chiudiamo gli occhi sappiamo se abbiamo un gomito esteso o piegato sappiamo in che posizione le nostre articolazioni sono nello spazio si chiama proprio eccezione la proprio eccezione con una protesi totale viene completamente persa perché tutto il ginocchio viene sostituito da un qualcosa di artificiale nelle protesi parziali invece la maggior parte del ginocchio rimane il ginocchio nativo del paziente tutto vantaggio della naturalezza con cui questo ginocchio si sente ma veniamo noi quando si ammala una sola parte del ginocchio ora vedete questa radiografia che vi ho messo nel video questa è una lastra in cui sia la parte interna sia la parte esterna del ginocchio ha uno spazio cioè voi vedete che il femore che sta sopra non entra in contatto con l'osso della tibia che sta sotto in nessuna posizione certo non è un ginocchio nuovo non è un ginocchio perfetto però se cominciamo a pensare che questo è il ginocchio di una persona di appena 50 anni si capisce quanto sia fondamentale in questo ginocchio rispettare il più possibile la parte interna ed esterna dell'articolazione quando non c'è alcun dolore che proviene da questa sede ora io ho preparato della stessa persona la assiale di rotola vedete questo è lo stesso ginocchio di prima l'assiale di rotola vedete la rotola che sta sopra al femore che è tutta lateralizzata è tutta spostata inclinata da una parte e ha mangiato completamente da questa parte la cartilagine quindi vedete che un osso entra in contratto con quell'altro invece di avere uno spazio tra le due ossa lo spazio è completamente perduto allora questa è una persona che ha un'articolazione del ginocchio completamente usurata allora in questo caso che cosa si può fare si può sostituire quel quell'articolazione con una articolazione artificiale che si chiama protesi femoro rotulia rivestendo solo ed esclusivamente la parte del ginocchio ammalata e ora vi faccio vedere con la robotica come facciamo ad ottenere questo risultato ecco a questo punto vi faccio vedere come mai ci piace la robotica vedete in questa immagine un video di come noi possiamo tridimensionalmente progettare poi il rivestimento della femoro rotulia prima di eseguirlo in sala operatoria per poi utilizzare il il robot per riprodurre esattamente la posizione la dimensione l'affondamento e l'orientamento di questa protesi quindi diciamo riassumendo noi possiamo parlare di protesi femoro rotulia robotica che è una protesi che consente di rivestire solo la parte malata del ginocchio tra la rotula e il femore in caso di un contatto osso su osso di un osso su quell'altro in quei casi in cui l'unica usura dolorosa e presente a livello del ginocchio sia quella anteriore la facciamo per via robotica perché la precisione dell'esecuzione di questo tipo di impianto è fondamentale per sentire il ginocchio naturale e completamente buono e vi ringrazio anche oggi per essere stati con me scrivete nei commenti se c'è qualcosa di non chiaro mettete mi piace iscrivetevi al canale se volete altri contenuti di questo tipo sul mio sito